E vedi che a volte le cose che dici sembrano te stronzate, ma poi se vai a guardar manco troppo, te dici, ma mo' non vedi questo che fa li pupazzetti, è bravo pure mi nipote che c'ha quattro anni a fa' sta roba qua, anzi, a fa' proprio uguale uguale, è mi nipote che è un genio o è questo qua che è uno stronzo? E il fatto è, st'opera te sta poco a dir che l'artista è un po' come un ragazzino che fa le cose senza pensare a chi gli può non piacere o se può non servire o per esprimere i concetti difficili, ma invece na semplicità vede il mondo con l'occhi sua e te fa le stelle e le fiori grossi come le case e le persone che sto due zeppi messi in croce, un po' come nei sogni che le cose magari non c'hanno una logica. Perché il ragazzino è libero, non come noi che demo dannà lavorare, essere sempre educati e gentili e pagare affitto e bollette e c'avemo mille pensieri e si spuntano a stella ma anche la vedemo che stiamo concentrati a guardare quel cazzo di cellulare che mo' si non ho spegnito o butto dalla finestra. Eppure te certe volte lo dici, dici, ah oh ammazza vorrei da ritornare bambino e non pensare in cazzo e mangiare e beve e dormire tutto il giorno, così dimenticassere tutto quello che abbiamo imparato e tornai inizio. E artista come ragazzino se stupisce d'ogni cosa perché come si avete pa' a prima volta, un po' pure come l'homini primitivi che infatti facevano di pupazzetti tipo questi. E mo' questo non vor dì che chiunque se sveglia e fa uno scarabocchio diventa artista, proprio perché mi roccia ha già pensato cent'anni fa e ci aveva un senso, e se te vuoi essere artista oggi devi da pensacca a testa tua. E però ti ha lì i disegni di un ipote, nì butà, che pure che non è un genio quando gli ripete da grande se fa un sacco di disate.